Salve a tutti e benvenuti alla seconda edizione del Premio Nazionale Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Siamo arrivati alla presentazione di un nuovo progetto, ma prima ricordiamoci che lo spirito del premio prevede innanzitutto educazione e rispetto. Quindi spegniamo i telefoni cellulari e teniamo tutti il giusto silenzio durante la presentazione del lavoro dei nostri amici di Catania. Ricordiamoci anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un dibattito che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino nei confronti dei ragazzi di Catania lasciare loro alcuni commenti nell'apposito blog e all'interno del sito del premio. Infine, prima di passare la parola a Martina, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo a sinistra ed una accanto al palco sulla destra. In ogni caso, facciamo sempre il riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro, in rappresentanza della regione Sicilia, da Catania, le classi prima, seconda e terza media dell'Istituto Comprensivo Busco presentano il progetto Incantesimi. La referente del progetto è la professoressa Enrica Mallo. Lo spettacolo parla dell'incantesimo dell'arte che sopravvive all'orrore. In questo caso si parla dell'orrore della guerra e più specificatamente del conflitto in Medio Oriente che sembra non aver fine. Così, attraverso la poesia, si raccontano le storie di quattro donne che riescono a trovare un respiro anche all'interno della guerra. La musica sarà l'altro aspetto fondante dello spettacolo e detterà i tempi e le atmosfere. Grazie. 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 visce ciò che devo assolutamente cambiare. I dittatori farebbero bene a leggere i poemi e invece li spettano, fino a giorni in cui la resistenza popolare diventa essa stessa una sorta di poema. A sette anni si deciso di giocare e ricordo bene come e perché. In una notte d'estate fui improvvisamente svegliato da mia madre e mi ritrovai a correre con centinaia di contadini nei boschi inseguito dalle pallotte. Quella notte ha messo fine alla mia infamica. Non chiedevo più nulla. Ero diventato improvvisamente adulto. Dopo più di un anno mi distro che saremmo tornati. Prendere a casa significava per me la fine della provocazione delle ragazze di Barenza, che mi insultavano con le vite dopinganti di troppo. Dopo tanta fatica mi ritrovavo in un certo villaggio. Che delusione! Non era il mio. Non capivo come avesse potuto essere distrutto un villaggio intero. Non capivo come fosse accaduto che ogni intero mondo fosse sparito. Nei ci fossero bene lì, che l'avevano ragnentato. Mamma, dai, bis. Un'ostagia del pane di mia madre, del caffè di mia madre, delle sederezze, un'ostagia. Cresce l'infanzia in me e mi namoro della vita, mia vita. Se dovessi morire, avevo vergogna del pianto di mio madre, l'invecchiato. Rendimi le stelle dell'infanzia. Fammi tornare, come torniamo in cielo, al nido della tua sette. Immaginate un paesino ai piedi di un vulcano sul punto di erotare. Il vulcano trema e borbotta per tutta la notte, emette fumo e scintilla. E di tanto in tanto butta fuori i massi incandescenti che rotolano a valle verso il villaggio. Qui nel villaggio si trova una donna che non riesce a dormire. Non per la volta del vulcano, ma perché sente il suo figlio di una donna che è una stanza vicina che si gira e si rigira senza riuscire a prendersi sordo. Il ragazzo non riesce a prendersi sordo, non per il pensiero del vulcano, ma piuttosto perché la sua vecchia immaginazione lo spinge su di scrivere la vedova che vive in un articolo. E anche la vedova sta sveglia tutta la notte, non per il pensiero del vulcano, ma perché la sua giovane figlia sta frequentando un uomo che è il doppio dei suoi anni. E anche il vecchio sta sveglia tutta la notte, non perché il vulcano si consiglia di aiutare, ma perché vuole disperatamente essere letto un consiglio o come un altro. Anche se sa, tu non avrai la risposta. Questo scenario descrive Israele in tempo di guerra, in tempo di territori occupati palestinesi, di minacce e di distruzione nei confronti di Israele, di terrore, di insediamenti, di paure esistenziali. La vita quotidiana, la routine, va avanti al rispetto di tutto questo, va avanti da un anno all'altro, con tutte le sue meschinità e tutta la grandicità di solo Israele. Ma questo scenario non è una semplice descrizione di Israele. Dal giorno in cui fu fondata nel 1948 d'oggi è anche la rappresentazione della condizione umana. Ora immaginiamo che nel villaggio dei dependizi del vulcano viva oltre alla vedova sua figlia, oltre al ragazzo e al politico, uno scrittore. Che cosa farà lo scrittore del villaggio in quelle notti rischierate dai beliori dell'alà? Deve andare la propria voce per protestare? Uno scrittore lavora con le parole. Questo impone allo scrittore una responsabilità verso il linguaggio. Ove parole piene d'odio vengono brandite come un'asso, con un gruppo particolare di esseri umani, lontanterà per la sua comparsa una vera asso. Lo scrittore può essere il vigile del fuoco del linguaggio, o almeno il rilevatore di fumo. Può, e quindi re. Ogni volta che la gente usa per un gruppo etnico, religioso o altro, termini come sudicio, crescita cancerosa o minaccia strisciante, lo scrittore deve alzarsi e suonare il campanello dall'albero del villaggio. Molti intellettuali europei prendono in giro gli americani in generale, e Hollywood in particolare, per il punto di vista superficiale e infantile, tipico del fuoco western, dove è sempre ovvio che è il cattivo e che è il buono, ma quando gli stessi intellettuali europei esprimono la loro visione del conflitto medirentale, non fanno altro che il suonizzare o western hollywoodiano. Ma il conflitto estraelo-palestinese non è un western, è una tragedia. E' una tragedia nel senso classico del termine. E' uno scontro tra due cause giuste. Gli arabi palestinesi sono in Palestina, perché la Palestina è la loro madre patria. Non hanno altra cosa in modo. Gli ebrei israeliani sono in Israele, perché nel corso di mille anni non c'è stato altro paese, altre nazioni, in cui hanno potuto sentirsi accanto. Come individui sì, ma come nazione gli ebrei non hanno mai avuto altra cosa che ibrei. E' uno scontro. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. , 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 ,,, 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 ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, La mia patria emigrante è in giura con me. Mercobaleno ha deciso di errare all'infinito perché ha perduto la sua casa dirigente. Perché sei venuto straniero? Per fuggire di là, da paesi impazziti, dove non c'è più niente per soffrivolgermi a stregare, salvo le trompe dell'Ivo e gli altri di io, di coperti da un suono di polpa e di imposizione, e di cadaveri e di fiori inviccati nei matrimoni dei barbari, di là, dove la gente sotterra la propria infanzia nelle lati, la gioventù nelle delusioni, la vecchiaia e la pazia dei pazzi. La morte, a cui non serve un altro nome che morte. E cosa vuoi fare qui, buon uomo? Continuare la mia vita in silenzio. Libererò il mio figlio da tutte le anze in piccola delle piazze e inviderò la libertà del fanno. Camminerò, come l'orfano, ai margini delle dimostrazioni studentesse, e allo sventolà delle bandiere bianche, dove l'unico scopo è quello di dire la libertà, perché prezioso è la palla. Sorriderò le torne sui marciapiedi, e accarezzerò le vecchine tristi nelle panchine dei giardinetti. Currerò la mia malinconia che schiettano, e cullerò lo scolore del mio animo con i soldi. E quando gli incubi mi assaliranno, uscirò dalla luce della terra, e vagherò per le strade come turisti scottinati, il baggerò della giacca sollevata, il cuore impianto sulla mia bocca, gocce di pioggia pulita, come le lacrime degli ori. Oh, Signore, fammi tornare a luce della mia madre. Comunque io, Adam, vedrò una poesia attracciata, sogna, veramente, e di allora, in ogni poesia, vedrò una di morte. Sfanno le città, la terra, la terra, fumo, la poesia è da sola, questo volto sposo. La tua quadro, poeta, è là, dove per te c'è il suo esilio. La poesia non è un modo di esprimere lo piccolo, è un canto che stare da una ferita sanguinante, o dalla presa ridente. La tua quadro, poeta, è un canto che stare da una ferita sanguinante, o dalla presa ridente. La tua quadro, poeta, è un canto che stare da una ferita sanguinante, o dalla presa ridente. La tua quadro, poeta, è un canto che stare da una ferita sanguinante, o dalla presa ridente. Ogni uomo è un poema, un poema è un poema, ogni animale è un poema, ogni albero, ogni fiore è un poema, ogni montagna, ogni sasso è un poema. La tua quadro, poeta, è un canto che stare da una ferita sanguinante, o dalla presa ridente. La tua quadro, poeta, è un canto che stare da una ferita sanguinante, o dalla presa ridente. La tua quadro, poeta, è un canto che stare da una ferita sanguinante, o dalla presa ridente. Un ringraziamento ed un applauso a tutti i ragazzi di Catania. Passiamo a conoscerli uno ad uno. Per le ragazze, Maria Andò, Valentina Boncaldo, Martina Buda, Valentina Di Bella, Grazia La Greca, Valessa Laudani, Contagna Emanuela e Ivana Pellegrino. Per i ragazzi, Portaro Angelo e Francesco Zumbo. E ringraziamo anche le docenti, Joanna Moschella ed Enrica Mallo. Per ringraziamento anche ai genitori e agli accompagnatori. Noi tutti vi ringraziamo e vi consegniamo questo attestato di partecipazione che vi viene rilasciato dal premio e dal Teatro Stabile di Grossi. Grazie.